Sono quattro i luoghi in cui lo Stato italiano ricorda ufficialmente le figure centrali del risorgimento. Roma per Vittorio Emanuele II, Genova per Mazzini, Torino per Cavour e Caprera per Garibaldi. Stamattina la prefetta di Sassari, Paola Di Sì, ha deposto una corona dall'oro a nome del presidente del Consiglio. L'ultima dimora dell'eroe dei due mondi, non solo in Sardegna, suscita sentimenti che oltrepassano il ruolo del Nizzardo nel processo unitario. Ultimo ma non ultimo Garibaldi proprio qui a Caprera, in questo luogo straordinario, in una cerimonia che ogni anno si rinnova veramente toccante per tutti i sardi, credo, e per tutti gli italiani. Ieri, sempre su iniziativa della prefetta di Sì, a Sassari si è svolto un convegno sul significato della celebrazione tra le meno note della storia d'Italia, soprattutto fra le nuove generazioni. Le esibizioni di due studenti del conservatorio suggeriscono la consapevolezza di un'amnesia da superare. Una ricorrenza che vale la pena di celebrare perché una comunità che non è capace di raccontare se stessa, soprattutto alle generazioni nuove, e di spiegare il senso della sua presenza è una comunità un po' monca. In Italia c'è molto da fare, c'è molto da fare soprattutto nella scuola che attraversa una crisi gravissima, ma è un programma che può essere assunto con qualche motivo di speranza.